Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi siamo lieti di proporvi in vendita un elegante appartamento appena ristrutturato, situato nel cuore di Trani. L'immobile è caratterizzato da finiture moderne di alta qualità, pensate per offrire il massimo del comfort e dello stile. Marcando la porta d'ingresso ci accoglie un disimpegno con luce di cortesia integrata, che introduce con eleganza agli ambienti interni. Superato quest'ultimo troviamo un salone spazioso e luminoso, con affaccio su un ampio balcone, ideale per momenti di relax all'aperto. La cucina abitabile è completamente arredata come umbilio moderno e perfetta per chi ama cucinare e ricevere ospiti. Dal corridoio si accede alla zona notte, composta da tre camere da letto, ampie e luminose, e uno studio, perfetto per lavorare da casa, come spazio aggiuntivo. L'appartamento dispone di due banni, uno padronale e uno ad uso comune, con lavanderia, entrambi realizzati con materiali di pregio e attenzione ai dettagli. Il doppio affaccio garantisce una ventilazione naturale e una luminosità eccellente in ogni stanza. Gli infissi con doppio vetrocamera assicurano un ottimo isolamento termico e acustico, mentre le tapparelle elettriche, con controllo centralizzato e individuale, offrono praticità e sicurezza. Le zanzariere presenti in tutte le stanze garantiscono un confort estivo ottimale. La caldaia a condensazione nuova garantisce la massima efficienza energetica e un significativo risparmio sui consumi. Questa proprietà rappresenta una soluzione abitativa ideale per chi desidera vivere in un ambiente moderno e confortevole, senza rinunciare alla comodità di una posizione centrale. Non perdete l'occasione di visitare questo magnifico appartamento e scoprire tutti i dettagli che lo rendono unico. Contattaci per maggiori informazioni e per prenotare una visita. Ciao, alla prossima!